Il trattato di pace è la base dell'attuale ordinamento internazionale e come tale e come appunto trattato non può essere sostituito, abrogato, modificato da accordi bilaterali come il trattato di Osimo, che era semplicemente un accordo tra Italia e Jugoslavia, oltretutto la Jugoslavia non esiste più ad oggi, ma poteva semplicemente essere confermato dal trattato di Osimo. Quindi in realtà Italia e Jugoslavia hanno violato il trattato di pace del 1947 nel momento in cui hanno deciso di spartirsi in due parti appunto il territorio libero di Trieste. Grazie a tutti.